Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo ancora dalla 1 dove a causa del traffico congestionato si registrano 13 km di coda tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Sud in direzione Roma, rallentamenti invece tra Firenze Sud e Incisa Reggello, code a tratti per traffico intenso anche tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino sempre in direzione Roma. In Fipili invece due chilometri di coda a causa di lavori tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno e rallentamenti in direzione Firenze. Da segnalare anche code in uscita a causa del traffico intenso alla Strassigna provenendo da Firenze. Sul raccordo Sena-Firenze sempre per lavori, rallentamenti all'altezza dello svincolo di Tavernelle e Val di Pesa che attualmente è chiuso in entrata e in uscita verso Firenze. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!